A Prato è stato presentato il programma degli interventi 2014-2021 di Publieacqua, che comprendono la distrettualizzazione in corso e l'approccio integrato alla gestione della risorsa idrica pratese. L'obiettivo è quello di rendere la città laniera indipendente dal sistema metropolitano. La distrettualizzazione delle reti di distribuzione è volta a portare efficienza alle reti stesse nel separarle e misurarne i quantitativi idrici che vengono immessi nel loro interno, nel tentativo di cercare di recuperare in un secondo tempo le perdite presenti. Attualmente il progetto di distrettualizzazione più importante che Publieacqua sta portando avanti è rivolto a Prato, però sono già stati distrettualizzati i sistemi di Pistoia, Agliana, Quarrata, in parte Sesto Fiorentino, totalmente Campi Bisenzio. Abbiamo recuperato circa il 40% dei volumi dispersi in diverse realtà, poi chiaramente ogni sistema ha la sua storia, ogni sistema aveva un certo tenore di perdite e quindi bisognerebbe andare a vedere puntualmente caso per caso i recuperi che abbiamo ottenuto. In realtà soltanto la distrettualizzazione non sarebbe in grado di rendere autonomo il fabbisogno di Prato, anche se, insisto, il sistema pratese va visto all'interno di un sistema più vasto, appunto il sistema metropolitano, che vede la sua risorsa fondamentale e principale nei due impianti principali, anche nelle Mantignano di Firenze, e si sviluppa proprio da Firenze verso Prato, Campi, Sesto, Calenzano, Pistoia, Quarrata, Agliana da una parte, quindi guardando verso ovest e verso sud-est, fin verso i comuni del Chianti. Tutte le operazioni per realizzare questa distrettualizzazione che costi hanno? Sono costi relativamente sostenuti, perché ricoprono attività pluriannali di un servizio di una decina di persone, più interventi massivi sulle reti di distribuzione che devono implementare delle valvole di riduzione, dei veri set di controllo di portata e pressione all'interno dei distretti. Il progetto di Prato, per esempio, è iniziato alla fine del 2012 e attualmente drena un quantitativo economico di circa 1 milione e 100 euro. Sono previsti per la completa distrettualizzazione e efficientamento del sistema pratese 1 milione e mezzo di euro. Certamente l'investimento è importante per Publiacqua, però a mio avviso risulta molto più importante a livello sociale e a livello ambientale. Mi spiego. Attualmente le pressioni presso le utenze non hanno dei valori, secondo me, adeguati ad oggi. Tant'è vero che molte sono le lamentele che ci pervengono. Gioca forza per i quantitativi di perdite che esistono oggi nel sistema pratese. La distrettualizzazione consente il riequilibrio delle pressioni del sistema, quindi del valore della pressione che l'utente avverte al contatore, quindi quando eroga l'acqua attraverso il rubinetto. Questa è la prima cosa importante, cioè portare un equilibrio pressorio all'utenza tale che non ci siano disservizi. Il secondo motivo, forse ancora più importante, è quello a livello ambientale, ovvero sia intanto come risorsa risparmiata, intendo quella recuperata attraverso la riparazione delle perdite, e l'energia che non sarà più necessaria al sollevamento appunto della risorsa risparmiata che oggi va persa. Quali sono le attività da mettere in campo per progettare la distrettualizzazione di una rete? L'attività principale, chiamiamola attività madre, è quella di capire bene il funzionamento dell'acquedotto su cui dobbiamo poi operare la distrettualizzazione. Quindi, a tal fine è stato condotto la realizzazione di un modello di simulazione idraulica del sistema acquedottistico in essere. Questo sistema è un modello matematico, viene effettuato attraverso l'attento monitoraggio di portata e pressione presenti all'interno del sistema per circa una ventina di giorni in continuo. Attraverso l'elaborazione di questi dati e la realizzazione del modello stesso, si chiama fase di calibrazione, è possibile capire il funzionamento nel dettaglio del sistema acquedottistico di riferimento. Abbiamo quindi un modello di simulazione su cui poter provare a operare la separazione delle reti, quindi a creare i singoli settori, provare manovre di chiusura di valvole e vedere gli effetti in termini di pressione che l'utenza può avvertire presso il proprio contatore. O addirittura provare l'accensione, lo spegnimento o la modifica delle condizioni delle pompe di alimentazione e degli impianti che alimentano lo stesso sistema. Basti pensare che non è stato realizzato solo il modello di simulazione idraulica del sistema pratese, ma è stata modellata tutta l'intera rete di Publiacqua che ammonta circa 5.700 km di sola rete di distribuzione. In totale sono 7.200 km di rete fra adduzione e distribuzione. Questi modelli matematici servono solo alla distruttualizzazione? No, i modelli matematici sono degli strumenti che aiutano la comprensione dei fenomeni che stanno dietro alla gestione degli acquedotti. Quindi aiutano ogni qualvolta che si devono effettuare, per esempio, delle manovre di rete per lavori o lo spegnimento di alcune parti delle centrali. Quindi sul modello matematico si può simulare l'effetto dello spegnimento di una pompa, della chiusura di una valvola di rete. O addirittura, come quello che stiamo tentando di fare, di individuare le zone più soggette a perdite attraverso un set di monitoraggio delle pressioni di rete effettuato in continuo. Quindi, cosa succede? Oggi le nostre squadre di ricerca perdite affrontano quello che si chiama ricerca sistematica delle perdite e che prevede la partenza da un singolo punto per poi dipanarsi su tutta l'intera rete. Chiaramente si tratta di chilometri e chilometri. Attraverso, invece, il monitoraggio delle pressioni e l'ausilio del modello matematico è possibile stabilire delle aree dove, percentualmente, è possibile che si concentrino di più le perdite di rete. Quindi uno strumento, secondo me, fondamentale ai fini della gestione degli acquedotti.